Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Brawl Stars Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se noi Lascio il hashtag Brawl Stars qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino E andiamo avanti a questa nuova puntata ragazzi Allora ho fatto un piccolo drop perché mentre stavo iniziando questa registrazione Mi si è aperto TikTok da solo e mi ha cliccato su TikTok Me l'ha aperto, il tizio che stava dentro alla sopravvivenza che stavo facendo Mi ha preso di pieno e mi ha detto proprio Ciao ben rientrato Boomshot-7 Va bene, va bene, ci possiamo stare A sto punto andiamo a farci un po' di partite in questa sopravvivenza E durante questo video vi faccio vedere un'immagine interessantissima Messa da un altro grande di Brawl Stars Che sta registrando una clip, anzi un video per il suo canale che uscirà in questa settimana Dove si vede probabilmente il nuovo Brawler ragazzi Ponti ufficiali quindi non possono dirmi niente nessuno Andiamo avanti, andiamo a farci qualche sopravvivenza e vediamo dove arriviamo Mentre sto registrando questo video sono le 11 del mattino Quindi probabilmente voi state vedendo Rambo Stars Se non l'avete ancora visto andate a dare un'occhiata dopo questo video E giustamente questo mi deve sfaciolare le bombole E mi se frega tutto E noi siamo senza Power Up Quindi assolutamente dovremmo giocare molto safe Che tanto i Power Up non ci rilasceranno né mai Possiamo fare teaming col Colt? Dai Facciamo un teamingino col Colt Sperando che non ci capita un altro Tic e Toc della Fava Un momento sbagliato Ok A sto punto miriamo tutti in là Siamo io e te Coltino quindi possiamo Ovviamente Allora quel Corvo e quel maledetto Cosetto stanno a fa teaming Ma quella è una Shelly Perché c'è una Shelly là? Perché c'è una Shelly lì? No! No questa è cattiveria regà Questa è cattiveria No regà questa è cattiveria però dai Questa si chiama chiusone dalle mie parti Ok Ok l'abbiamo presa L'abbiamo chiusa all'angolo Sta là dietro State là Piala tu Piala tu C'è tutta tua Tutta tua Tala tu Tala tu Bravo Colt Il problema è che qua ci stanno quei due Chi lo so stiamo in team Lo so Via lui via lui Niente non lo abbiamo Piamo Ok Dimo Non mi sembra ci sia nessuno là Questo è buono Là c'è una Shelly 4 Questo c'è Spuglio Sembra privo di nemici Ok A sto punto prendiamo la Shelly Diamo fastidio a quella Shelly Piccola è sola all'angoletto Con quattro Magari la eliminiamo Ok bene 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 Oh Quello ci piace Andiamo a prendere quello Che dite Ti diamo fastidio Ti diamo fastidio a quel poverino Ormai sta all'angolo chiuso Guardalo 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 che simpatico Guardalo che simpatico Bello de mamma Che dici Che stai dicendo Rionbolosa Ok è morto Siamo in tre Poi c'è sta quello là Che non c'è più Eccolo Arriva E niente Mi ha preso Terzo Ma contento dai Questa partita mi è andata anche troppo di lusso Se vorrei dire Un po' di lusso No ti prego Colt mollami Ti prego No No Colt vai a quel paese Ti prego Coltino Mollami Ok ti do fastidio a te Colt Perché tu mi hai dato fastidio a me Io ti infastidisco a te Non ci frega niente Guarda che simpatico il Colt Che bello Volevo dargli fastidio Prendendolo un pochino di dietro Aia Potrebbe venire gente brutta Quindi io mi allargherai lontano Ho paura però Potrebbero arrivare qua Quello è il problema Oh guarda là la gente che semena Ti andiamo a dar un saluto Ti andiamo a dar un saluto a questi Che bello Fatto Facciamo team con l'altro bo Tanto io cerco di difendermi da questo cesp Io perché potrebbe apparire qualcuno Ok non ha apparso nessuno Per nostra fortuna Ancora per adesso Io mi preoccupo tanto De sto lato raga Centrale mi preoccupa quasi meno Ok Eccolo lo sapevo io Lo sapevo lo sapevo lo sapevo Sono morto No non sono morto Però Sono un po' all'angolo Ok La Shelly ci ha provato eh Bene bene Stiamo in team Doppio bo Mamma mia Doppio bo Doppio bo Stiamo a schiaffi La gente Stiamo in sei E' un bene da una parte E' un male dall'altra Ora quel bo Sta combattendo lì La semenano Ci piace Ci piace Stiamo a dare una mano Ok Quello l'ho preso due tre volte E' una Shelly là Lo so Ti ho notata Ti ho notata Lo so che sei lì nascosta Non ti salverai molto a lungo Ah no è un bo C'è un bo E' una rosa Una rosa Blu Andiamo a prendere noi Meno che non arriva il bo E ci rompe i cosi nostri E probabilmente arriva il bo Lo so Lo so che arriva Eccolo No non arriva Arriva da lei Questo è buono per noi Figlia Da regalo Ti è tutta tua Ok Tutta tua e mia Contemporaneamente Allora tu stai là No no Io mi metto dall'altra parte Lascia beh No no Io non te conosco Non te conosco Passa qua Te prego Passaci No Non ci credo E' morto dopo E' morto dopo Non ci credo Mandata delusso Pure questa Mandata Sto recuperando il drop Senza volerlo No dai Il corpo no Te prego Il corpo qui vicino a me No io li odio Il corpo rega Li odio tanto Li odio tantissimissimo Andiamo subito al centro Andiamo subito questi qua Fanno qua No No Stanno in teaming Stanno in teaming Non è vero No 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 Pure il corpo no Corvo No Te prego Non rompermi le balls Corvo Prego Non voglio Se facciamo teaming Vai Facciamo teaming Facciamogli vedere chi comanda Qua c'è un altro corvo Qua c'è il trale Non sembra esserci nessuno Là sicuramente c'è qualcuno Ok Aia c'è lo spike Lo spike è pericoloso Contro di noi No Corvo ha fatto il giro di qua L'altro corvo ha fatto il giro di qua No dai Il boh così no Sei cattivo Eh ma ha fregato Porca zozza Porca zozza Ci hanno fregato male Dai ragazzi Ci riproviamo Ok Ti prosegue Non riuscite a rompere nessuna delle due casse Perché giustamente sto tirando di auto aim La mira auto aim centrale non verrà mai penso Ok cerchiamo di Bastidire quei tizi Peccato che c'è un corvo là No non vuole fare team ho capito Sono incastrato In un punto molto pericoloso Perché potrebbero arrivarmi Dai ci spavogli E dovrei assolutamente dare in su Esperando di non beccare nessuno Oh E questo Che piace viene verso di noi Eh però c'è pure l'altro Leon Ha lisciato Questo è buono Oh oh Là c'è un qualcuno che Controlla la situazione Oh No Ecco perché controllavi la situazione Mo ho capito Questa è brutta Mi hanno chiuso all'angolo qua Non c'è solo lui E quello è il problema C'è pure l'altro là Eh sto stretto raga Sto stretto Lo so che qua c'è moglie Io c'è moglie C'è moglie Sicuro Ah La Shelly Con la super Ok no Sono vivo Sono vivo Ancora per poco Ma sono vivo No Mi sono fregato con le mie mani Mi sono fregato Facciamo teaming Ti prego No è niente No non è vero Mi stai trollando Sei una brutta persona Eh lo sapevo che sei una brutta persona Timore Beh primo Tutte e due Ma fa un beccolo Lo terzo Fia deve questo Fia 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 Secondo No Come vieni da te là Lo so Da qua E invece no Date qua Ah maledetto Questa è la pagina di Instagram Di Lex Assolutamente Ha postato questa immagine Molto interessante Che voi la vedete in piccolo E tra poco andremo a zoomarla Dove fa vedere Che lui sta lavorando Pesantemente Per il prossimo video Ma che uscirà Nei prossimi giorni Perché è veramente Pazzesco Ok Andiamo a vedere Lo zoom Che ho creato io A questo punto Su due dettagli Di questa immagine Allora Andiamo a vederla insieme Giustamente Non mi vedrete più Eccomi Allora Potete vedere Sulla sinistra L'immagine Del Brawl Talk Assolutamente Vedete un'immagine Del Brawl Talk Quindi Già lui ha potuto Vederlo in anteprima E dall'altra parte Invece abbiamo Una bella immaginina Di un personaggio Cerchiato con il rosso Che dovrebbe essere Il nuovo brawler Allora A vederlo Da questa distanza Severebbe Una sorta di pennuto Quindi non vorrei Che fosse un pappagallo Ragazzi Che abbiano utilizzato Cluster Bomb Per farlo diventare Un pappagallino Che lancia cosa a distanza O che lancia Piume dall'alto Non lo so Lo vedremo tra pochissimo Perché tra poco Ci sarà il Brawl Talk Infatti questo video Uscirà Prima E avrete la possibilità Di fare ipotesi Su quel brawler Perché abbiamo Anche la forma Ragazzi Molto particolare Va bene Questa era la clip Che tutti aspettavate Arriviamo a 300 like Condividete il video Iscrivetevi al canale Se siete nuovi Lasciate Brawl Stars Qua sotto i commenti Per ricevere un cuoricino E ci vediamo Nel prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti